Bella! E' una cosa molto strana per me, è la prima volta nella mia vita che vedo il nostro regista Lucuone bere acqua. E diretti, la nostra amica lo sa anche, ecco, benissimo, fai vedere cosa stai, ecco Lucuone è il fascino del vinile, è il fascino del vinile. Come avrete capito mi trovo all'inaugurazione della vinileria e non mi ricordo come si chiama, so che è di Alberto dalla Libera, starring Lucuone e Valerio che avete visto ieri in veste di registi nella... e anche la trasmissione su Interno 5. Il vinile ha un grande e intramottabile fascino. Perfetto. però eravamo dei slatti perché siamo gli leggisti, vedi? l'abbiamo proprio di legherla passate tutti due, cioè due tardi simboli, diciamo abbassa la pancia che si è così ah, sui, sui giudicati si 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 Grazie a tutti.